Il diritto delle minoranze religiose ad avere un luogo di culto dove pregare è il tema della 17esima giornata del dialogo cristiano-islamico. In diocesi sono previste due giornate d'incontro organizzate dalle chiese cristiane e dalle comunità musulmane del Tiguglio. Al centro il valore del dialogo, oggi fondamentale per vincere quel clima di paura, soprattutto verso l'Islam. Non confondere l'Islam, vero, l'Islam che vuole la pace, il dialogo, l'incontro con le sue manifestazioni diciamo violente che non appartengono di diritto a quello che è l'Islam storicamente. La giornata del dialogo venne avviata nel 2001 all'indomani dell'attentato alle Torri Gemelle per sottolineare che all'origine l'Islam è una religione di pace. Questo tema di paura incide alla guerra, vediamo anche le reazioni delle persone, quando ti guardano comunque hanno paura. Quando il tema della guerra, il tema di odio verso l'altro è così diffuso e allora è questo, è questo il mondo purtroppo dove viviamo adesso. Noi il nostro dovere è far capire alle persone che siamo esseri umani prima di tutto e poi persone di fede. Venerdì sera alle 21 nella casa della gioventù di Rapallo si terrà dunque un incontro pubblico a due voci. Per parte cristiana Paolo Naso che è docente di scienza politica, coordinatore del master in religioni e mediatore culturale presso la Sapienza a Roma. Per parte musulmana Alfredo Maiolese Faisal, presidente della Lega dei Musulmani d'Europa. Quindi è l'occasione di avere entrambe due figure davvero di alto livello e anche di mentalità aperta che ci aiuteranno io credo in un clima assolutamente di dialogo, di rispetto reciproco nell'approfondire questo tema. Sabato 27 ottobre infine alle 10 ci sarà un momento di conoscenza e scambio dedicato ai giovani che terminerà con il pranzo insieme. E' anche un po' preparato sia da alcuni giovani musulmani che verranno da Milano sia da alcuni giovani cristiani delle nostre comunità e chiese. Sarà un vero e proprio dialogo su questo tema.